Sono Gabriele Masciotti, ho 23 anni. Sono laureato in informatica presso l'Università di Pisa e sto seguendo un master in Cyber Security sempre presso l'Università di Pisa. Il mio progetto sostanzialmente si occupa di Deep Learning, quindi l'obiettivo è sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale per il rilevamento dello stato emotivo di utenti di sistemi tecnologici autonomi o semi-autonomi, come per esempio alla guida di un veicolo a guida autonoma appunto e quindi l'obiettivo è proprio quello di individuare lo stato psicofisico emotivo dell'utente e adattare il comportamento e il funzionamento di questo sistema di intelligenza artificiale in base proprio a questi feedback che sono forniti dall'utente. La borsa di studio verrà utilizzata per procurare parte della strumentazione che servirà per esempio per la costruzione dei dataset dedicati all'allenamento di questi modelli di intelligenza artificiale con i software che sono stati presentati, strumentazioni che possono essere anche abbastanza costose e complicate computazionalmente da eseguire, quindi anche l'allestimento dei computer può usare delle macchine necessarie e può far uso appunto delle risorse messe a disposizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.